Una rete interconnessa con un biglietto unico in tutta la regione per qualunque treno. Una prospettiva che la Puglia sta cercando di attuare ma che non può prescindere dalle infrastrutture messe a punto in questi mesi per migliorare l'interoperabilità delle reti, come spiega il direttore generale di Ferro Tramviaria Massimo Nitti. La normativa europea e la normativa italiana vanno verso l'interoperabilità delle reti. E' chiaro che l'obiettivo principale in Puglia è quello di mettere a sistema 1.500 km di rete che adesso sono separate tra di loro. Ci sono 4 operatori ferroviari, ci siamo noi, ci sono le ferrovie del Gargano, le ferrovie del sud-est, tre in Italia, le ferrovie a Polo Lucane sono a scartamento ridotto, quindi non rientrano nel decreto 188 che aveva stabilito quali erano le reti che dovevano diventare interoperabili. Quindi noi insieme alla regione da anni stiamo lavorando a questo e i pesanti investimenti che sono stati fatti sulle reti infrastrutturali sono finalizzati a rendere interoperabili le reti di quelle parlavo prima. Stiamo completando i lavori di raddoppio che comportano l'interramento della ferrovia nell'abitato di Andria per diventare poi interoperabili nella stazione di Barletta e nella stazione di Bari. L'interoperabilità nella stazione di Barletta è già stata finanziata e condivisa con Rete Ferroviaria Italiana ed è una dinamica che controlliamo un attimino di più perché in realtà interveniamo sui nostri binari e i nostri sistemi di controllo del traffico che stiamo modificando potranno colloquiare con quelli di Rete Ferroviaria Italiana. Più complessa è la situazione sul nodo di Bari perché la situazione sul nodo di Bari purtroppo si trascina da decenni però devo dire che negli ultimi anni c'è stata un'accelerazione. C'è stata un'accelerazione entro il 2017-2018 dovrebbero essere completati i lavori di modifica del piano del ferro della stazione di Rete Ferroviaria Italiana di Bari Centrale e il nuovo apparato centrale e questo dovrebbe consentire l'interoperabilità delle reti di sud-est e di ferrovie del nord Bari.